La capolista Lazio dopo la vittoria sulla Tiber Team fa visita a una fraschetta del Pesce Express reduce dal pareggio 4 a 4 contro la Taverna dei 40. Buonasera e benvenuti dall'Atletico 2000 per la sedicesima giornata di Serie A di Lega Calcio a 8. Lui da tra i pali a difendere la porta della fraschetta del Pesce Express quando si fa a faccia ancora dalle parti di Chinagli la Lazio con Fanasca. Un secondo tocco poi la Lazio prova a farsi vedere in avanti con il pallone al centro per Fanasca di Francesco e recupera immediatamente il pallone va con il destro e trova il primo gol del match 1 a 0 per la Lazio Calcio a 8. Mirko De Francesco, Valentini, chiuso da De Dominicis si lancia in profondità Mariani, De Dominicis fa tutto da solo il suo destro sul fondo di un niente Popa e Valentini sul punto di battuta, tre disposti da Diego Tavani prende la rincorsa Popa sopra la traversa avanza, rientra sul piede destro poi va in profondità da Mariani davanti a Chinagli esce il portiere intervento sulla palla Vittozzi e Valentini sul punto di battuta, prende la rincorsa Valentini, il suo destro Tavani si salva con i piedi e poi la palla si alza a campanile Piras ancora in area di rigore, riesce a liberare la Lazio De Dominicis salta un avversario, 1-2, riuscito con Mariani De Dominicis il sinistro, sfiora il pallo, chiede una deviazione, sarà calcio d'angolo De Francesco con il petto prova la conclusione da fuori cerca l'Eurogoal il 7 ma non trova la doppietta De Dominicis dalla bandierina traiettoria alta per il colpo di testa che porta la Lazio sul risultato di 2-0 proprio sul duplice fischio del direttore di gara finisce il primo tempo tra Fraschetta del Pesce Express e Lazio Calciotti in vantaggi Bianco Celesti per 2-0 gira per Resta che prova il traversone, esce Tavani, chiama la palla Valentini prova il Pollonetto grande occasione per la Fraschetta del Pesce Express per Rotti trippa finta il tiro che arriva ora spiazza completamente i chinali Lazio 3 Fraschetta del Pesce Express 0 Penta Assuglia alza la testa vorrebbe pensare alla conclusione che arriva il gol è splendido di Penta Assuglia palo e poi la palla si infila in rete per il 4-0 Lazio Piazza sbaglia il passaggio il tentativo di Pollonetto e arriva un altro fantastico gol questa porta volta la firma di Riccardo Trippa Lazio 5 Fraschetta del Pesce Express 0 alza la destra da uno sguardo al centro la metterà soterra fuori arriva manda Nacchil destro ancora una volta Tavani attento il suo destro sul triplice fischio del direttore di gara la Lazio vince l'Atletico 2000 contro la Fraschetta del Pesce Express per 5-0 e si consolida al primo posto della classifica